programma fantastico, io personalmente sono il proprietario di Limitless Agency, un'agenzia di marketing che si occupa di far scalare attività che si vogliono buttare nel digitale, prettamente attività digitali, ma abbiamo anche qualche attività locale, ok? Il nostro business principale è quello, dall'altra parte siamo anche un punto di riferimento in Italia per quanto riguarda la formazione nel mondo del social media marketing, quindi nelle agenzie di marketing, quindi aiutiamo, abbiamo aiutato centinaia e centinaia di persone ad iniziare la propria agenzia e a scalarla velocemente con alcune tecniche che attualmente sul mercato funzionano benissimo, ok? Il motivo per cui abbiamo deciso di investire in infomarketing per babuine è perché quando sul webinar ho capito che non era solo un corso basato per gli infoprodotti, che anche se noi li abbiamo ma non è il nostro business principale, probabilmente non ci avrei investito, ma ho capito che comunque si erano dei concetti per posizionarsi nei confronti, ok? Per avere una giusta percezione nei confronti dei nostri clienti e aumentare il ticket medio, ok? Nell'ultimo periodo in agenzie abbiamo iniziato a lavorare con aziende veramente, veramente grandi, ok? Cosa a cui non eravamo abituati e sentivo un distacco tra me e loro, ok? Un distacco che non mi permetteva di lavorare bene, di lavorare tranquillo, correttamente e quindi abbiamo deciso di investire in un programma che ci desse le tecniche, ok? E diciamo la giusta mentalità da applicare diciamo in relazione al cliente per essere noi a comandare il discorso, a comandare la comunicazione, che secondo me è l'importante poi che si trova all'interno del programma, ok? Noi già di default anche nei nostri programmi abbiamo delle tecniche per posizionarci nel mercato a livello di agenzia, mettendo a leva le testimonianze che abbiamo e il sistema che utilizziamo, che tendenzialmente per chi non lo sapesse è una nicchia o un servizio, in modo che possiamo mettere a leva le testimonianze e ottimizzare anche il tempo che dedicamo per ogni singolo cliente, ma non basta solo quello, se si vuole arrivare a un livello successivo bisogna appunto imparare, come dicono Big Luke e Dan Kennedy all'interno del corso, alcune chicche, ok? Che ti permettono di avere una percezione di gran lunga superiore agli occhi del cliente e quindi di farti pagare magari 3-5 volte più lavorando un terzo del tempo per quel servizio, ok? Quindi veramente, veramente per chi ha un'agenzia consiglio di investire in questo corso. Passiamo dall'altra parte perché come vi ho accennato prima noi abbiamo anche un business di formazione dove appunto insegniamo alle persone come avviare la propria agenzia. Non è stato mai per me il mio business principale, quindi non ci ho mai dedicato tanta attenzione, tanta formazione e diciamo nel periodo della quarantena dove l'agenzia aveva un po' barcollato, mettiamola così, mi piace essere trasparente, abbiamo iniziato a dedicarci un po' più attenzione, ok? Questo perché ovviamente è un'entrata secondaria e deve sopperire i momenti di gap dell'altra parte, ok? E nel prossimo periodo inizieremo a scalare anche quella parte del business. Per chiunque ha, appunto accennavo, noi non avendolo preso seriamente abbiamo fatto tantissimi errori, quindi come la maggior parte delle persone che si buttano in questo mondo farete tanti errori, però per questo dovete investire una cifra che si permettete irrisoria perché 1200 euro, se considerate che in un business formazione se ne investono tantissimi in pubblicità, aumentare anche solo del 10% la qualità dell'infrastruttura che abbiamo per il nostro infoprodotto e del posizionamento che creiamo, sicuramente ne vale la pena a gran lunga, ok? Quindi noi abbiamo sbagliato tante cose al rapporto con, diciamo, col mercato, abbiamo sbagliato in passato le prezzistiche, abbiamo sbagliato il rapporto con i nostri corsisti, tutte cose che vengono spiegate molto precisamente all'interno del corso, quindi per chiunque abbia un business formazione o voglia iniziarne uno, fidatevi per esperienza, è meglio fare una buona formazione all'inizio piuttosto di iniziare a investire 3, 5, 10 mila euro in Facebook Ads al mese e vedere un, diciamo, un pari o un leggero profitto che però non ne vale la candela, ok? Quindi ragazzi, investite in infomarketing per babbuini o di fare i complimenti a Big che vedrà questo video e anche a Dan Kennedy che non lo vedrà magari. Fate questa scelta oggi se non erro, è l'ultimo giorno disponibile, non ve ne pentirete, quindi andate a prenderlo. L'ultima cosa che voglio dirvi, dato che ci sono, io avendo studiato veramente, veramente tantissimi corsi nella mia carriera, ok? Che ho 22 anni, quindi sembra che ne abbia 40 se parlo così, però comunque sì, abbiamo investito tantissimo in formazione perché effettivamente se fate un'analisi del mercato non esiste una persona che vedete spiccare all'interno del mercato dell'online che almeno non abbia comprato e investito e si sia formato da 5-6 corsi dei top mondiali, ok? Non esiste. Io non ho mai visto una persona spiccare senza fare formazione di nessun tipo online, ok? Quindi questo dobbiamo metterlo a punto. E come vi accennavo prima, dato che appunto mi piace, ok? Dare i giusti crediti alle persone da cui mi formo, che poi con quelle informazioni riesco a migliorare il mio business, dedico anche 20 secondi a vendita telefonica d'assalto, altro corso della Big Blue International anche adesso è chiuso, ma avendolo preso nell'ultimo lancio non abbiamo avuto tempo per ringraziare. Personalmente io ho dato un'occhiata veloce, ho semplicemente dato l'accesso ai venditori, ok? E sono rimasti molto soddisfatti, sicuramente il processo di vendita telefonica ha aiutato molto in azienda, anche effettivamente per quanto riguarda i meeting in chiusura per l'agenzia, ok? Dobbiamo mettere conto anche quello perché poi il procedimento, ok? Gli step by step della telefonata sono simili, ok? Già li facciamo prima per i meeting, siamo riusciti ad adattarli sia per la vendita telefonica che per i meeting con un sistema migliore e una migliore ottimizzazione, ok? Quindi ragazzi, i corsi della Big Blue International sono ottimi, non voglio farvi perdere altro tempo, probabilmente il Big vi lascerà il link a qualche parte qui sotto, cliccate e sfruttate l'offerta che è l'ultimo giorno per prenderla. Buon lavoro a tutti!